Papparam paramparapapapam Pappam Fate il tricolore Poi se lo vedete dalla parte giusta della pista E' giusto il colore I piloti lo vedono a parte dei derogati Che attraversano la pista Come vedete c'è stato un restyling Della pista La Conca di Muro Leccese Sono state ridipinti i cordoli E' stato colorato questo bellissimo tricolore Ci sono alcune vie di fuga Colorate come vedete là in fondo Non so se Gabriel Il mio bellissimo cameraman Riesce a inquadrare appunto Quella via di fuga azzurra Piuttosto che là in fondo Quella curva dove c'è quel bellissimo striscione T-Kart Che bello che è lo striscione T-Kart Dove appunto nella gara della Master Series Di quest'anno c'erano stati dei problemi col fango Non so se avete visto le foto su T-Kart Lì è stata creata appunto una via di fuga Un allargamento della traietoria Che può permettere ai piloti appunto Di sfruttare al 100% la pista Ma anche l'asfalto della pista E' stato modificato perché come vedete E' molto più scuro Ci sono sempre i drogati Occhio Gabriel che sono pericolosi questi E' stato modificato E' stato reso più scuro Perché è stato pitturato con una particolare resina Che può donare più grip alla pista E questa questione è appunto una questione aperta Perché? Perché come vedete In questa curva si deposita tanta gomma Ovvero le gomme del kart Che essendo morbide come gomme ad altre prestazioni Formano i riccioli a causa del grip E questi riccioli poi vanno ad appiccicarsi alla pista Adesso io mi sono appiccicato le scarpe E appunto creano questa superficie di gomma In traiettorie appunto come vedete sul punto di corda E insomma c'è qualcuno che dice che questo è un problema E c'è qualcuno che dice è una figata E di conseguenza abbiamo parlato con tanti piloti nel paddock C'è appunto chi ci ha detto Ma sì, questo ci fa ritornare finalmente Come una volta quando correvo in Formula A Qualcuno ha detto che si faceva la curva E si alzavano due ruote Appunto tanto era il grip che forniva la pista Piuttosto che chi ha detto Eh no, questo è un problema Perché io arrivando in frenata Devo fare il sorpasso Dove mi metto? Mi metto sulla gomma Quando metto le ruote qui non va bene Piuttosto che se sto largo c'è meno grip Quindi insomma opinioni molto contrastanti Quelle dei piloti che abbiamo sentito oggi nel paddock Anche se volessimo fare una Io sto appiccicando le scarpe Gabio questo è un problema Vabbè tu scuoti la testa, fai niente Dicevo Non sapremmo dare un bilancio della situazione Nel senso che C'è chi ha detto Sì, bello, mi piace C'è chi ha detto No, non mi piace C'è chi ha detto Agevole i sorpassi Perché comunque tu Ti metti all'interno E quindi porti all'esterno Sullo sporco il pilota Di conseguenza facilita ancora di più i sorpassi Chi ha detto No, assolutamente così È impossibile sorpassare Doppio pollice verso Quindi francamente Noi non avendo né casco né tuta Non sappiamo cosa dire Sta di fatto che C'è più grip I tempi si sono abbassati Anche a causa dei 41 gradi Che ci sono in pista Non so se vedete Siamo devastati Gabio che tiene la telecamera Puzza addirittura Da quanto è sudato E Alta Importantissima novità Del weekend È che Le gomme Dunlop Che Mi pare Fornivano Sia la KZ Sia mi pare La KF2 Adesso KF3 Forse Non voglio sbagliare A causa dei problemi Che ci sono stati Nella gara dell'europeo Di Wackersdorf Di conseguenza gomme difettate Che si bucavano Qui Non ci sono E tutti i cat Corrono con gomme vega Gabio vuoi aggiungere qualcosa? Direi che sei stato Abbastanza lungo tu Lungo Come il mio naso Guardate che meraviglia Comunque